Hanno raccolto sacchi stracolmi di rifiuti di ogni genere, in particolare plastica, bottiglie, sacchetti, giocattoli e confezioni di prodotti consumati e poi lanciati con troppa disinvoltura nel fiume. Decine i volontari di tutte le età che hanno partecipato all'edizione 2023 di Puliamo il Mondo, la maxicampagna di educazione ambientale promossa da Lega Ambiente. Ad Arezzo è stata l'occasione per richiamare l'attenzione sui corsi d'acqua che attraversano le aree urbane, passate così al setaccio le sponde del torrente Castro. È un messaggio per tutti perché purtroppo proprio nei corsi d'acqua, anche quelli estraurbani, ma in quelli urbani in particolare, si convogliano rifiuti che sono a volte anche abbandonati nelle aree circostanti. Ora per esempio siamo in un giardino che è comunque vicino al Castro e quindi il vento, l'acqua, il dilavamento, purtroppo tutti i rifiuti che anche sono stati abbandonati qui li porterà prima o poi nel fiume. Poi ci sono anche degli abbandoni purtroppo diretti nel fiume, anche di ingombranti. Questo è molto pericoloso perché un rifiuto ingombrante collocato nel fiume, nel momento in cui arriva la piena, può proprio provocare delle ostruzioni e quindi delle protogenatiche anche importanti dal punto di vista idraulico. Voglio però riportare l'attenzione che qualsiasi rifiuto abbandonato, anche una piccola bottiglia di plastica, è comunque un atteggiamento da dover cambiare. Perché poi la plastica finisce sul fiume, col tempo si logora, si sminuzza, diventa una microplastica che piano piano dal fiume arriva fino al mare e va a sconvolgere tutti gli equilibri degli ecosistemi. Ricco purtroppo, come sempre, il raccolto decine di chili di materiali recuperati, selezionati e correttamente avviati allo smaltimento. Sono iniziative che tendono poi, questo è importante, a sensibilizzare sempre di più le persone, anche se è vero che le persone che partecipano in genere sono già molto sensibilizzate. Però il passaparola, il vederle attive, il sentire i risultati della raccolta, eccetera, sono uno sprone affinché anche gli altri, tutti noi, mi ci metto anch'io, si adottino comportamenti sempre più consapevoli e rispettosi dell'ambiente che ci circonda.